Primo tempo ad ottimi livelli anche sul piano del gioco, nel secondo tempo si è amministrato questo doppio vantaggio, si riportano a casa tre punti pesanti. Sì, sono contento perché finalmente non abbiamo giocato bene, ci siamo presi tre punti. Quello che a volte si imputava a questa squadra, oggi prima della partita avevo chiesto ai ragazzi una partita di sostanza. Gli ho detto che non mi interessa oggi il gioco, caliamoci nella mentalità che sicuramente avrà il como, quella di una squadra che ha bisogno a tutti i costi di tre punti e che metterà tanto agonismo. Oltre agonismo secondo me ha messo anche altro perché oggi si è dimostrata una buona squadra, tante volte ci ha messo in difficoltà, è stato bravissimo Fiorillo. Per oggi abbiamo visto un pescara cinico, inizialmente soprattutto nel primo tempo abbiamo sofferto un po' perché non riuscivamo a essere molto corti e noi quando siamo lunghi andiamo un po' in difficoltà. Poi nel secondo tempo ci siamo messi meglio in campo, li abbiamo aspettati un po' di più e è andata meglio. Oggi il merito va al como, bisogna dare anche i meriti alle altre squadre, oggi ha fatto un'ottima gara, l'ha preparata bene, era ben messa in campo, noi eravamo un po' troppo lunghi come ho detto e a volte non posizionati bene. Poi nel primo tempo ci siamo messi un po' meglio in campo e abbiamo sicuramente sofferto di meno sul piano del gioco, poi qualcosa ha creato comunque il como, però insomma alla fine oltre ai gol abbiamo creato anche noi altre opportunità. Diciamo che non è stato il pescara più bello visto in questa stagione ma sicuramente è stato il più cinico. Se vuoi arrivare lontano non puoi essere solo bello perché la storia del campionato finale ci ha insegnato anche che a volte sei bello ma non raccogli niente. Siccome di queste partite ce ne saranno tante da qui alla fine, il primo concetto fondamentale è che tu devi giocare a darmi pari per quanto riguarda prima di tutto l'aspetto mentale. Se tu hai l'approccio giusto, l'aspetto mentale è anche quello di saper soffrire, voler soffrire per ottenere un risultato, cioè quello che hanno le squadre magari che si vogliono salvare e allora parti da un buon punto di partenza. Se a questo poi ci aggiungi che ovviamente la qualità che abbiamo noi rispetto a molte altre squadre superiore allora le cose vanno bene. Siamo soddisfatto dal punto di vista della voglia, dell'impegno, del fatto che comunque ci abbiamo creduto fino alla fine. Chiaramente il risultato ci penalizza tanto in una situazione di classifica difficile, però sicuramente con questa voglia, con questo impegno possiamo migliorare. I gol subiti sono tanti e dobbiamo lavorare molto meglio sulla fase difensiva, anche se oggi, devo dire, l'abbiamo fatto anche abbastanza bene. Abbiamo preso due gol comunque su due errori, soprattutto il primo è stato un brutto errore nostro, un'uscita sbagliata, però comunque chiaramente per tirarci fuori da questa situazione dobbiamo migliorare i gol che subiamo, dobbiamo cercare di subire meno gol e continuare comunque con questa determinazione. Ci aspettava questo tipo di avversario, con questo atteggiamento che nella ripresa è stato anche un attimo speculativo? Beh, è chiaro, comunque sul 2-0 allora hanno fatto la loro partita, hanno sfruttato le loro qualità, soprattutto davanti con giocatori molto abili tecnicamente, però sapevamo che era una partita difficile, comunque complimenti al Pescara che ci ha creduto e è venuto a fare un grosso risultato per loro.